Don Francesco, oggi è un giorno di festa per i bambini, ma quale percorso cominceranno? Questo già è un percorso iniziato da diversi anni, da ben 65 anni. Questo è il nostro 65esimo convegno che viviamo insieme. Naturalmente oggi ci sono i bambini dei nostri giorni, ma quando per esempio mi trovo a visitare le varie parrocchie ci sono oggi gli adulti che una volta erano i ministranti. E quindi già la nostra Chiesa vive da diversi anni questo cammino di formazione religiosa, possiamo così dire, per i ministranti, per farli crescere secondo la vita evangelica. La giornata, quale altre attività prevede oltre alla Messa che abbiamo appena assistito? Adesso nell'atrio inferiore del seminario si vivrà un momento di giochi dove accompagnati dai seminaristi e quest'anno collaborati dal gruppo Scout e Grigento 6 i bambini saranno coinvolti in determinate attività ludiche portando sempre il contenuto e il messaggio di quest'anno sulla mia parola. Dopodiché poi ci sarà il sorteggio di alcuni regali per quei bambini che durante l'anno hanno partecipato alle varie attività delle 112 sanoministranti. L'auguro che faccio ai bambini è di vivere sempre nella gioia del Signore Risorto e soprattutto di una vita evangelica.